Grazie Presidente. Ecco, mi permetta di intervenire in questo Consiglio regionale che segna la ripresa della mia attività politica dopo la malattia, ora risolta molto bene, per fare alcune considerazioni che sono nate e si sono formalizzate proprio in questi giorni. Mi permetta anche qui di ringraziare con l'occasione tutti quelli che in questo periodo di malattia mi sono stati vicini e anche fare gli auguri di pronta guarigione al Consigliere Ferrego, alla Consigliera Fontana. Questo periodo in cui ho lasciato prima l'incarico di Assessore regionale e quindi ho potuto avere più tempo per guardarmi attorno, ma soprattutto il tempo di un'inaspettata malattia sono state occasioni importanti per rivedere le motivazioni che un tempo mi hanno spinto, mi hanno fatto lasciare un posto da chirurgo, il lavoro ce l'avevo e un posto anche amato per entrare in politica e in questo periodo ho anche dovuto chiedermi ma quali sono le motivazioni che oggi mi fanno tornare qui anche anzitempo? E queste motivazioni è stato bello riprendere, erano per un forte desiderio di cercare di lavorare per esigenze della mia gente, per contribuire alla costruzione del bene comune e oggi mi sembrano ancora molto valide e più chiare. Questo mio intervento, Presidente Rolanden, non è certo dovuto a quanto lei mi aveva comunicato, mi ha comunicato quel 5 giugno al mattino nel suo studio in modo improvviso, ecco si parla di modalità di comunicazione e mi ha comunicato che avevo tre ore per dare dimissioni dall'assessorato alla sanità perché l'UVP per entrare in maggioranza voleva a tutti i costi l'assessorato alla sanità, cosa che poi si è dimostrata non vera. Se quella modalità improvvisa non è stata per me completamente comprensibile e soprattutto perché lei allora non mi ha dato alcuna possibilità di replica e di discussione. Comunque non è per questo, non è per questo che ora io vado a dire queste cose, infatti allora mi andai in silenzio senza un discorso, senza un polemico. La modalità, le ragioni invece sono proprio quelle che voglio mettere al centro di questo mio intervento e che il metodo con cui in questa valle viene restita la cosa pubblica, le difficoltà che ci sono nel dialogare, nel proporre soluzioni le abbiamo vissute anche in questi giorni, soprattutto perché sono dovute, soprattutto perché chi gestisce è uno solo e fa e gestisce tutto da solo. Questo proprio perché il ruolo anche che gli è attribuito, ma anche per una storia, oltre a che per delle capacità personali che sono in dubbio. Queste difficoltà, Presidente Ronaldè, nel condividere tutte le sue scelte, soprattutto negli ultimi sei mesi della mia presenza in Giunta, nella sua Giunta, le sono sicuramente chiare, ecco, le sono sicuramente chiare. In quel periodo le mie posizioni erano ascoltate con molta difficoltà da parte sua. Si ricorda certo che ho dato le dimissioni due volte e che per due volte lei mi ha richiamato, dandomi assicurazioni che poi sono state rispettate quando io non ero più lì. Certo, forse queste incomprensioni sono dovute al mio limite, ma lei sicuramente non ha mai voluto con me affrontarle neanche in questo periodo e di questo sono dispiaciuto. Non sono certo l'unico a vivere un disagio in quest'Aula, ecco, a non essere ascoltato, a non poter mettere le proprie competenze in discussione e in aiuto alle scelte importanti che si stanno facendo, ecco. Molti anche della maggioranza nei corridoi, ma anche in tutta la valle mi dicono questi. Anche se alcuni che hanno formulato queste differenze, ecco, sono stati rottamati, altri se ne sono andati prima con l'accusa di essere degli opportunisti o dei traditori. Ora, io sono convinto che il sistema politico valdostano debba recuperare un percorso diverso di condivisione, di rapporti, di ascolto, ecco, questo proprio per ottenere una maggiore efficienza e dei maggiori risultati. Se si vuole migliorare la situazione della nostra gente, che sicuramente sta a cuore a tutti, in un momento difficile di cambiamento, bisogna cominciare ad ascoltare tutti, avvaliare anche le altre esperienze se è possibile utilizzarle e valorizzarle. Mi ha colpito l'intervento del consigliere Fabri oggi quando, da uomo onesto con me, parlava di amarezza. Il modello di chi vuole cambiare questo è proprio che l'altro non è un ostacolo, ma una risorsa. Da questa modalità di questo attuale sistema politico non deriva una progettualità efficace. Il cambiamento non può essere richiesto soltanto da iniziative dei cittadini, petizioni, leggi di iniziativa popolare, che anche se sono sicuramente validi, perché tutti ospichiamo una maggior partecipazione della nostra gente, del popolo, sono comunque un segno che la politica arriva in ritardo. Io penso di essere profondamente e sinceramente autonomista e federalista e credo nei valori dell'Unione Valdotene e della sua storia. Soprattutto sono fiero di appartenere a una terra che da sempre per valori la solidarietà e la sussidiarietà. Penso e mi dispiace dirlo che in questo momento all'interno del gruppo consigliare dell'UV non ci siano le condizioni per poter fare un percorso di confronto e di cambiamento, senza divieti e blocchi. Ci ho provato in questi anni, ma non ci sono riuscito, sicuramente anche per colpa mia. Per questo vi comunico, le comunico, signor Presidente Rossè, che lascerò il gruppo consigliare dell'UV per costruire un nuovo gruppo. Per un cambiamento vero che molti ci chiedono, unionisti e no, in giro per la valle, nella sala, anche in quest'aula. Per chi vive un riferimento, per chi, e ce ne sono molti, vive questo disagio, perché l'opinione del singolo, di un piccolo gruppo, possa almeno avere la dignità di essere ascoltata. Vogliamo che questo gruppo continui a far parte della maggioranza, se gli eventi politici e le scelte della stessa maggioranza ne riconosceranno l'opportunità. Ma con una possibilità di proposta, di dialogo, di incisività, ben maggiore di quanto siamo riusciti a fare finora. Per un cambiamento del metodo e della gestione di quanto la politica deve affrontare. Aperto certo a tutte le proposte della minoranza e pronti ad accogliere le osservazioni, a non fare muro contro muro. Lo diceva bene il consigliere della Torre, cambiare il metodo vuol dire non pensare che chi ha il potere, il politico, i numeri, possa fare tutto, possa fare di tutto. Per un cambiamento di questo modello operativo che, dico a tutta la maggioranza, non è più rinviabile. Non c'è dietro questa nostra scelta un progetto politico più ampio, ma solo posizioni individuali, certo, da confrontare con chi le voglia confrontare. E tra l'altro non saranno due posizioni critiche all'interno della maggioranza, a indebolire una maggioranza che conta su 24 o 26 membri. Io starò qui in questo Consiglio dedicando il tempo che rimane in questa legislatura, mettendo qui il mio impegno e anche la mia salute, per realizzare questo compito che mi ero dato quando ho deciso di entrare in politica. Vi ringrazio a tutti. Grazie.